Ti prego Roberto, non hai un buco? Ho una testa, non so come... Mamma! Il 12 luglio, ma come faccio fino al 12 luglio? Mamma, i soldi! Mamma, dai che ti mandai! Vabbè, vabbè, vabbè... Dai mamma, ti mandai! Ciao, ciao! Quando sono al telefono non continuare a farmi così perché mi nervosisco! Devo andare! Dove devi andare? Dal parrucchierino, gli dai i soldi! Chiedigli al papà! Mamma mia! Ma come, scusa un attimo, da che parrucchiere vai? Da Danilo! Ma Danilo è unisex? Sì, c'è una signora dopo in me, mi fai andare? E come faccio a prenotare? No, mamma, devi prenotare con l'app! Con l'app? Sì! Ci vuole l'app anche per andare da... Mi aiuti, per favore, ti prego! No, devo andare, basta! Ti prego, aiutami! La prossima! La signora Cattario? Sì! Buongiorno! Ma che ha fatto durante la quarentena, signora? Tutto a posto? Tutto a posto! Si è dimagrita tanto! Eh, ho facciato a posto! Eh, i capelli scuri anche! Allora, prego! Dobbiamo sterilizzare le scarpe, poi le ascelle! Allora, devi mettere la sua bozza qui dentro, gli effetti personali qua! Sì, ho fatto! Prego, si può accomodare! Prego! Ti sento qui! Prego! Grazie! Allora, le persone anziane dovevo misurare la pressione! Ah sì, le persone anziane! Sì, le persone anziane! Prego! Oh, bene! No, basta, basta! Basta, basta! No, va bene! Ha mangiato sano in questa quarantena! Complimenti! Allora, dobbiamo misurare la pepbre... No, eh! Nell'orecchio! Ah, ecco! Eh! 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 Scherzo! Scherzo! Non ha niente! Allora, vediamo se la gola è arrossata! La gola? Sì, la gola è arrossata! Ma è sì! Sì! No! Prego, prego! No, sta bene! Ma, senta! E si è spunite i capelli! Sì! E anche tagliati i corti! Vorrevo dare una bella... Una spuntatina! Una spuntatina! Cominciamo con... Vediamo un po'... Buongiorno, Danilo! Signore, capiamo! Signora, partà! Buongiorno, tutto bene? Ma lei chi è? Ma lei non è la signora Cartanio! Scusa, che succede? Ma la signora ha fatto una formenta e ha preso il suo posto! Ma io sono sbagliata! Ma devo sanificare tutto! Andate fuori tutti! Cosa hai fatto? Io... Mi ha chiamato il barbiere! Guarda che ti hanno riconosciuta! Ma che figura mi fai fare? Scusami! Mi sono imbucata! Non so cosa mi è preso! Mi è preso lo Steve Beats! Scusami! Sei una mamma di... Di merda! Ah 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 Ma che formenta... Grazie.